SOS Grande Malato, la Giunta Bassanese dà il via libera ai lavori di sistemazione delle stilate 3 e 4 del Ponte Vecchio da realizzare in somma urgenza. Un'operazione che richiederà la chiusura del Ponte Palladiano e subito scatta l'allarme tra la gente, preoccupata per la stabilità della già fragile struttura ed è al proposito che interviene il Sindaco Poletto. Il Ponte è messo non bene, non è che possa crollare domani mattina, il punto è che quest'autunno quali piene possono arrivare, non c'è nessun tecnico, nessun ingegnere che metterà una firma sotto un documento che dice che non c'è alcun rischio, anzi tutti ci dicono che rischi potrebbero esserci se non si interviene, per cui abbiamo preso il toro per le corna e si è deciso per un intervenito in somma urgenza. Dei giorni di chiusura sarà difficile evitarli, affermare che durante l'intervento necessariamente sarà sempre chiuso è diciamo l'ipotesi peggiore, noi stiamo lavorando e lavoreremo con la ditta che verrà individuata proprio se non a ore e a giorni per poter ridurre al minimo la chiusura perché ci rendiamo conto che ogni giorno di chiusura è un danno per gli operatori economici, è un danno di immagine per la città che cerchiamo di scongiurare e di ridurre al minimo. Il primo cittadino non ha dubbi, bisogna riuscire a proteggere sia il monumento lineo che gli interessi della città e di chi vive e lavora in città, per questo già in giornate i commercianti della destra Brenta hanno incontrato il vice sindaco Campagnolo per capire quali strategie seguire e come giunta hanno già studiato un piano di interventi. Siamo presi l'impegno di mettere anche dei denari, delle risorse per poter in questa stagione autunale-invernale, magari in prossimità del Natale vedremo quando sarà il periodo più opportuno, di attivare delle attività specifiche in quella zona di Angrano. Per cercare di lenire o ripagare in qualche maniera ad una chiusura che ad oggi non possiamo quantificare ma che ci sarà e che per quanto non è causa dell'amministrazione, noi ci dobbiamo comunque far carico perché c'è una parte del centro storico che sta all'irà del ponte, che appare dignità di quella che sta di qua del ponte.